Nuovo caso a Merate per i richiedenti asilo. Dopo la vicenda dell'appartamento di Novate, ora 10 immigrati sono stati ospitati in un palazzo in via Pascoli. La Lega Nord ha preso una posizione netta contro questa vicenda. Mettere 10 nuovi presunti profughi in un palazzo già con un'alta percentuale di extracomunitari non è una cosa molto intelligente, anche perché si rischia di rompere quel delicato equilibrio che c'è attualmente nel palazzo. Già oggi ci sono delle situazioni a detta di chi ci abita che sono al limite, per cui mettere altre 10 persone in quell'edificio sicuramente non è una scelta intelligente. Si rischia di fatto di creare un ghetto, che sarebbe il primo ghetto della città di Merate. Questa cosa direi che va contro ogni logica di integrazione e di accoglienza delle persone che vengono in Italia per i più svariati motivi. Voi avete sollecitato l'amministrazione su questo punto. Quale risposta avete ottenuto? Noi non hanno detto proprio niente. Noi siamo usciti con un comunicato che parte da quanto dichiarato durante un incontro con la cittadinanza organizzato qualche giorno fa dalla giunta e dal sindaco. Incontro nel quale la giunta e il sindaco non hanno fatto altro che allargare le braccia e dire che non è colpa loro, che loro stanno semplicemente dando seguito a degli ordini impartiti dall'alto. Questa volta, a differenza del passato, il prefetto si è gentilmente ricordato di avvisare telefonicamente il sindaco, però al di là di questo non ci sono oggettivamente delle azioni volte a tutelare la tranquillità e la sicurezza dei cittadini meratesi. E questa è una cosa che ci preoccupa, perché domani potrebbe capitare da un'altra parte nella città. Cosa chiedete infine voi all'amministrazione per risolvere questo caso? Di prendere atto di questa situazione, di smetterla di essere semplicemente degli esecutori, di fare valere le proprie ragioni e soprattutto di tutelare la cittadinanza. Non esiste che siccome il contratto è fatto tra un privato e un ente pubblico il comune non possa dire la propria. Ha il dovere di tutelare i cittadini meratesi prima di qualsiasi altra cosa, cosa che non sta facendo, che non ha mai fatto e che continua a non fare. Grazie. 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 Grazie.